Ora diamo la parola al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Saluto alle cittadine, ai cittadini di Carpi, al Sindaco, alle famiglie dei martiri, alle autorità civili e religiose, alle associazioni partigiane, ai sindaci delle città martiri, a tutti i gonfaluni presenti, un saluto ai rappresentanti del Governo, un ringraziamento al Presidente della Regione Bonaccini, all'amico Pierluigi Castagnetti, a tutta la Fondazione Fossoli che lui presiede, un caro saluto al Presidente Frodi per essere qui con noi. Grazie per l'onore che mi è stato concesso di prendere la parola in questa cerimonia che anno dopo anno non smette di interrogarci e di aiutarci nella riflessione per declinare la memoria rispetto al contesto che stiamo vivendo. Un ringraziamento speciale alla Signora Presidente della Commissione, grazie per essere qui, per quello che ha appena detto. Con la sua presenza si ribadisce che le nostre istituzioni insieme sentono la responsabilità di non dimenticare e di riaffermare che la nostra Europa nasce dal punto più alto di dolore della nostra storia contemporanea, dal degrado morale di società che si credevano immuni a scatenare l'orrore e non hanno percepito il pericolo del nazismo e del fascismo e dal grido delle madri che in tutti i nostri Paesi, a qualunque fronte appartenessero, ogni qualvolta hanno ricevuto la notizia di un figlio morto, hanno urlato mai più la guerra. Ma quante volte, cara Ursula, in questi anni ci siamo sentiti dire da tanti cittadini «Ma in fondo cos'è l'Europa? Ma via, l'Europa non esiste. E poi a cosa serve l'Europa?» E poi si viene qui. Ho nei cento o mille luoghi della disumanità prodotta dalla cultura europea. E le risposte arrivano. E le domande sono semplici. Le risposte magari sono impegnative per tutti. Non vi è dubbio che in luoghi come questi riecheggi la voce muta degli uccisi, degli innocenti. Il grido «Viva la libertà!» spezzato dalle fucilate di Cibeno, dove vennero assassinati importanti dirigenti della Resistenza. Qui a Fossoli possiamo immaginare gli sguardi dei deportati, la loro incredulità accompagnata dagli stenti, il loro vagare nel campo. Mi hanno sempre colpito gli occhi delle vittime. La fissità degli occhi che guardano, ma non vedo. Sì, gli occhi dell'umanità privata di umanità. E guardate, gli occhi delle vittime sono sempre gli stessi. Sono quelli delle foto nei lager, dei condannati a morte, quelli che ritroviamo sempre, in ogni guerra, in ogni persona violentata, annientata della sua personalità. In tutti coloro che cercano di salvarsi, nelle donne umiliate, nelle colonne di famiglie che scappano, nei bambini smarriti, in coloro che annegano e si aggrappano alla vita e la perdono. Gli occhi di Mauthausen, come gli occhi di Serebreniz, dei profughi siriani, delle mamme riprese sui gommoni prima di annegare, nella corsa verso la felicità che non arriverà mai per la nostra indifferenza. Gli occhi che vediamo nelle fotografie delle vittime e dei prigionieri, ogni qualvolta viene a mancare la libertà e il diritto. E tutte le volte che libertà e diritto non si sposano con la giustizia. Cari amici, il mio pellegrinaggio oggi qui ha un solo motivo. Ricordare che non basta credere di essere al riparo. Ribadire che l'orrore che ci travolse nasceva dentro grandi culture democratiche, liberali, progressiste anche. In un tempo di grandi invenzioni tecnologiche, di scoperte, con artisti e letterati, poeti, filosofi, teologi, cosmopoliti, pieni di ingegno. Ma tutti, tutti incapaci di fiutare per tempo il pericolo del fascismo e del nazismo. E questo per complicità o per inettitudine. Erano culture sicure che non fosse possibile un capovolgimento dei valori fondamentali di umanità e di civiltà. E non solo. Tutto questo è stato alimentato da classi dirigenti convinte di poter posporre la giustizia, la pace, l'uguaglianza. E hanno predicato che a tutto questo si dovesse pensare dopo. Perché non era il momento giusto. Arrivando alla conclusione, attenzione su questo, che con più democrazia, uguaglianza e giustizia si sarebbe addirittura fatto il gioco dei violenti e degli estremisti. Cara Ursula, dicono lo stesso anche a noi oggi. Quando diciamo di salvare i migranti ci dicono che stiamo facendo il gioco degli scafisti. Oppure che la magistratura indipendente o il giornalismo sono espressioni di disordine. Oppure che è meglio non agitare il buonsenso quando difendiamo la dignità delle persone che vogliono amarsi. Quando in Europa, a differenza della maggior parte del pianeta, hanno il diritto di farlo. Perché da noi i diritti delle persone e l'umanità sono la misura di tutte le cose. A Cibeno, a Fossoli è accaduto. Può accadere ancora. Per questo dobbiamo sentire l'impegno, come ha scritto Giuseppe Dossetti, leader politico, costituente, monaco, nato in questa terra. Dobbiamo sentire l'impegno per una lucida coscienza storica. Per rendere sempre testimonianza veritiera agli eventi che sono accaduti. Impedire negazioni, amnesie, opportunismi. Ma Dossetti aggiunge che la coscienza storica da sola non basta. La nostra coscienza deve essere vigile. E cioè capace di opporsi a ogni inizio di sistema di male. Ecco perché non possiamo permetterci e non vogliamo farlo. E siamo qui con la Presidente von der Leyen per ribadirlo. Di sottovalutare le manifestazioni di odio, di violenza, le discriminazioni che si manifestano nello spazio europeo. C'è un segno dei tempi, però, che ci fa dire con fiducia che alcune lezioni, beh, le abbiamo anche apprese. Bene che il dibattito sulla ripresa, sulla ricostruzione delle nostre economie corra di pari passo con quello che riguarda la difesa dello Stato di diritto, dei nostri valori fondamentali, delle libertà che devono essere garantite ai nostri cittadini. Questo non era mai successo prima. Nemmeno dieci anni fa, durante la grande crisi che colpì la Grecia e l'Europa, il tema dello Stato di diritto era sempre sullo sfondo. Oggi è centrale nel dibattito politico europeo. Mai il dibattito, la denuncia, il richiamo verso fenomeni degenerativi presenti in alcuni Stati europei era stato così attento. E oggi ci vede con nuovi e inediti meccanismi sanzionatori. Perché avviene tutto questo? Perché vi è il rischio che senza una ferma difesa dei valori l'Europa possa perdere identità e funzione. E gli effetti sarebbero catastrofici. Se allentassimo la soglia di attenzione non saremo più in grado di sostenere che la democrazia è il sistema che meglio accompagna il desiderio di libertà, di giustizia, di benessere delle persone. Non avremo più la possibilità di proteggerci dalle ingerenze dei regimi autoritari e di far valere la nostra identità nelle relazioni internazionali in un momento in cui lo stile di vita europeo è ammirato e desiderato. Spesso, nei nostri dibattiti, nelle nostre polemiche, non ci accorgiamo di quello che siamo, di quanta voglia di Europa vi sia nel mondo e di quanta attenzione vi sia nei nostri confronti per gli effetti di un diritto europeo che in settant'anni ha prodotto un legame indissolubile fra libertà individuali e libertà sociali. Perdere tutto questo significherebbe precipitare nel nulla. D'altra parte, perché i regimi autoritari? Tutti, eh? Si preoccupano di noi. Eppure non facciamo la guerra. Non abbiamo neppure un esercito, anche se forse sarebbe il caso di averlo, se non altro per risparmiare sui bilanci nazionali. Non imponiamo il nostro modello. Le nostre relazioni sono improntate al dialogo, parliamo con tutti. Cerchiamo di sviluppare diplomazia dove c'è conflitto. E allora perché si preoccupano di noi? Vi è un solo motivo. Perché i valori europei agitano, perché le libertà consentono uguaglianza, giustizia, trasparenza, opportunità e pace. E se è possibile questo in Europa, è possibile ovunque. Noi non vogliamo uscire da questa crisi con società più aperte, con meno disuguaglianza, con impegni concreti nella lotta alla povertà, con una democrazia più funzionante, mettendo al centro gli anelli deboli delle nostre catene sociali, e cioè le donne e i giovani. Per questo non tolleriamo che nello spazio europeo vi siano paesi in cui, come ha detto molto bene la Presidente von der Leyen, la magistratura e il giornalismo vengano umiliati. In cui un vento antisemita costringa famiglie ebree europee a trasferirsi negli Stati Uniti o in Canada. In cui gli immigrati, i rifugiati, vengano considerati uno scarto. In cui le donne vengono sottopagate. In cui leggi nazionali producono discriminazioni. In cui si sostenga che territori europei vengono dichiarati LGTB free zone. In Europa i diritti di ogni persona sono diritti di tutti. E quando si parla di territori vietati a qualcuno, mi viene in mente quando nel 1942 i nazisti dichiararono Belgrado prima città Judenfrei, libera dai ebrei. Perché l'abbiamo imparato, è consuetudine cominciare sempre dalle minoranze. La memoria è parte della nostra identità, la nostra identità di cittadini. Abbiamo potuto costruire il futuro, riunire il Paese, avviare un tempo di democrazia, di concordia, di sviluppo. E abbiamo cominciato a edificare la nuova Europa alzando lo sguardo. Perché siamo saliti sulle spalle di donne e uomini che hanno messo in gioco ogni loro avere, che hanno rischiato anche soltanto per esprimere umana solidarietà verso coloro che erano in difficoltà o in fuga, che non hanno risparmiato sacrifici per porre fine all'Europa dei nazionalismi esasperati e criminali e della guerra. La Repubblica italiana ha origine in quella speranza. L'Europa, unita, ha le sue radici in questi luoghi. È l'idea di bene comune, che è sempre la premessa delle libertà di ciascuno. E il campo di Fossoli è certamente un monumento civile, ma a suo modo anche un luogo che le tragedie hanno modificato. Un luogo che dopo aver vissuto la disperazione del campo di concentramento, di prigionia, nel dopoguerra ha visto anche aprirsi ad altri colori. Sì, perché qui il registro è cambiato. Quando gli orfani e i ragazzi abbandonati di Don Zeno hanno tagliato i reticolati, hanno buttato giù i muri e vi costruirono la loro Nomadelfia, la città dove la fraternità è legge. E Nomadelfia è certamente una provocazione. Non circolava denaro, non esiste disoccupazione, uomini e donne lavorano all'interno della comunità senza ricevere stipendio in quanto non si può pagare il fratello. E anche il concetto di famiglia è diverso da quello esistente ovunque. Qui uomini e donne sono tenuti a esercitare la paternità e la maternità su tutti i figli, anche su quelli che non appartengono alla tua famiglia. E da qui emerge un'idea di famiglia che non si limita alla dimensione biologica. I bimbi di Nomadelfia descrivono così la famiglia nei loro diari. Mamma, non è colei che ti genera. Questo è un fatto di Dio. Mamma, scrivono, è colei che ti nutre e ti porta all'amore. Papa Francesco, il 12 maggio del 2018, ci ha ricordato Don Zeno che seppe individuare una peculiare forma di società dove non c'è spazio per la solitudine, ma dove vige il principio della collaborazione tra diverse famiglie, dove i membri si riconoscono fratelli. Oltre ai legami di sangue dunque esiste la fraternità che significa riconoscersi per la stessa dignità di cui godiamo. Ha scritto il filosofo tedesco Ernst Bloch che dialogò con un pensatore importante protestante Jürgen Moltmann e a suo modo influenzò la teologia della speranza scrisse che è un novum storico non è mai totalmente nuovo perché lo precede sempre un sogno oppure una promessa. L'Europa della democrazia e della pace è la promessa nata con la liberazione, con le liberazioni di fossoli, della risiera di San Saba, dei campi disseminati nell'Europa centrale, ma anche con le picconate che demmo al muro di Berlino riconquistando alla libertà i nostri paesi dell'Est. L'Europa è una costruzione una costruzione in divenire non deve ma non dovrà mai fermarsi non potrà fermarsi è un cantiere o se si vuole una cattedrale la cui officina richiede l'impegno di successive generazioni. Ed è per questo motivo che siamo molto determinati ad imprimere velocità al processo di adesione dei Balcani occidentali e a mantenere le promesse fatte dall'Europa per una riconciliazione dello spazio politico con lo spazio geografico. Non vogliamo che la delusione ad esempio dell'Albania della Macedonia del Nord prevalga e il loro sguardo si rivolga magari altrove e lo stesso vale per tutti quei paesi che hanno ancora forte il desiderio di far parte della nostra famiglia. La pandemia ha colpito ha fermato l'Europa ha fermato il mondo questa volta come è stato detto molto bene l'Europa non è stata passiva come avvenne dieci anni or sono questa volta l'Europa è stata capace di compiere sforzi balzi in avanti non è stata una risposta ordinaria ma un cambio di paradigma che prelude a un'Europa più giusta più forte nella dimensione globale e fra le elezioni di questi sedici mesi difficili dolorosi incerti vi è ora la consapevolezza che l'Europa non sono solo le istituzioni di Bruxelles ma lo siamo tutti lo sono i governi nazionali i parlamenti nazionali le nostre regioni perché abbiamo capito che siamo tutti tasselli e mattoni di questa grande impresa nessuno pensi però che si tratti di processi irreversibili in democrazia non ci sono mai conquiste scontate sta a noi dare attuazione alle nuove strategie alle nuove politiche alle nuove responsabilità comuni la democrazia stessa va continuamente alimentata adeguata perché altrimenti rischia di inaridirsi di non essere amata di dare spazio a rabbie distruttrici a istinti di chiusura magari nell'illusione che una casta o un'elite possa salvarsi da sola in un fortino blindato una democrazia efficiente che offre risposte ai cittadini che non si blocca per i diritti di veto è un'assicurazione sul nostro futuro e abbiamo in questo momento una grande responsabilità storica perché noi vogliamo uscire dalla fase più acuta della pandemia con un'Europa che riesca finalmente ad essere a mettere in moto uno sviluppo sostenibile a costruire comunità più coese a lottare contro la povertà a trasmettere in fondo il testimone della vita a una generazione che possa anch'essa essere libera di progettare il proprio futuro in fondo c'è qualcosa che si unisce che unisce il passaggio di testimone di allora tra i resistenti i liberatori le vittime innocenti e con quello di oggi aprire ai giovani la porta di un domani migliore questo è il nostro dovere e allora un tempo era soltanto l'illusione e l'intuizione la vocazione di donne e uomini coraggiosi oggi dobbiamo bisogna solo essere ciechi per negare che tutto questo è possibile solo considerando l'Europa il nostro destino un grande pensatore contemporaneo Edgar Morin che giorni fa ha compiuto cento anni ma non smette di aiutarci a riflettere sostiene che la nostra Europa sia nata dalla rivincita dell'umanesimo sulla barbarie c'è voluta scrive la morte dell'Europa dei tempi moderni della seconda guerra mondiale dell'incendio nazista perché dice ci fosse un primo voler nascere europeo ma ora ci dice Morin che con i mercati globali i poteri sovranazionali le straordinarie possibilità della tecnoscienza l'Europa deve darsi il compito di un nuovo umanesimo europeo unità nella diversità e diversità nell'unità ne sono le fondamenta e tutto questo ci fa sentire oggi qui a Fossoli ricordando i martiri di Cibeno i 5.000 e oltre partiti per i campi di concentramento come figli della grande storia quella che ha provocato milioni di morti in Europa e nel mondo che ha toccato il culmine nell'olocausto nella strage dei Roma e dei Sinti degli omosessuali quella che ha aperto la strada della liberazione a una civiltà che è certamente imperfetta ma è stata capace di promuovere pari dignità diritti universali crescita opportunità sicurezza sociale e oggi è ammirata nel mondo tutto questo ci richiama cari amici alla nostra funzione i sentinelle del domani dei nostri ragazzi non possiamo venderci gli occhi perché l'indifferenza porta alla violenza ed è già violenza come ci ricorda la senatrice Liliana Segri invitandoci a sentire il dolore degli altri perché ognuno è la traccia di ognuno solo così onoreremo le donne e gli uomini sulle cui spalle siamo potuti salire per godere di un destino molto diverso da loro grazie chiedo al sindaco di raccogliere il dono floreale preparato per la presidente della commissione Ursula von der Leyen come anticipato la cerimonia sarà conclusa con l'uscita della tenso struttura dai presidenti seguiti dagli accompagnatori alla visita privata al museo al deportato e a seguire comunicheremo l'ordine di uscita per questo per ragioni di sicurezza vi chiediamo di non abbandonare in questo momento la sala e di attendere il vostro turno seduti o in piedi come meglio